I numeri del settore, il trend è certamente positivo, i dati di fatturato complessivo che includono i servizi che erogano le aziende della comunicazione, gli investimenti netti e della pubblicità indicano un fatturato di circa 22 miliardi di euro, quindi continuiamo ad essere rilevanti. Peraltro da un'ultima ricerca effettuata all'Università di Pavia in collaborazione con il Centro Studi di Una la stima delle aziende presenti in Italia nel settore della comunicazione è pari a circa 9.700 aziende con quasi 30.000 addetti, quindi questo sta a significare che è un settore in continua evoluzione e soprattutto in crescita. In Sicilia, grazie all'attività di Una che è cominciata, ha iniziato il suo lavoro circa due anni fa si è creata una rete di agenzie che cooperano, fanno networking e quindi rappresentano anche il settore in Sicilia. Chiaramente è un inizio, ci stiamo impegnando per dare sempre maggiore voce e spazio a tutte le iniziative che si organizzano sia a livello locale, quindi regionale, che a livello nazionale. È importante non perdere questo treno perché la possibilità di confrontarsi e quindi di accrescere il proprio know-how in termini di competenze e anche di sviluppo di business con un network nazionale che è rappresentato da Una è certamente un asset per la nostra regione in riferimento al nostro settore. Oggi le professioni della comunicazione e quindi la possibilità per i giovani di trovare anche un futuro di avvicinarsi a questo settore, oggi ci sono tante opportunità attraverso un percorso formativo tramite le università o anche le accademie fino agli open day che si organizzano per unire la domanda all'offerta. Chiaramente sono delle professioni, alcune più tecniche, altre meno, che però offrono un percorso interessante per tutti coloro che hanno questa, prima di tutto, passione. Durante questa puntata abbiamo avuto la possibilità di parlare di comunicazione per tutti coloro che a diverso titolo operano in questo settore, quindi quelli che sono i percorsi formativi che possono favorire l'inserimento in questo settore. È stato interessante parlare anche di welfare aziendale e di protezione dei dati aziendali. Questa ottava puntata è in linea con le altre puntate, puntate nel quale abbiamo avuto la possibilità di avere ospiti rappresentanti dell'università pubbliche e private presenti a Palermo, puntate nel quale abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i rappresentanti delle principali associazioni datoriali. I giornalisti di TRM hanno incontrato imprenditori nazionali che oggi operano in Sicilia o imprenditori palermitani che in qualche modo stanno allargando il proprio raggio d'azione in Italia e all'estero. Tutti ci hanno raccontato di un mercato del lavoro in evoluzione ed è un momento in cui tutti cercano di avvantaggiarsi del capitale umano oggi a presente a Palermo e in Sicilia.